Dai proviamo questa accelerazione No ragazzi 0-100 così veloce ma va dai Quando mi hanno detto che potevo andare a Monaco di Baviera per provare il nuovo furgoncino di Rivian creato in collaborazione per Amazon in esclusiva ho detto subito di sì soprattutto perché mi hanno detto che a un certo punto avrei potuto anche guidarlo quindi eccomi qui ora vi mostro il nuovo furgoncino di Amazon io e la mia sexitudine vi raccontiamo innanzitutto com'è esteticamente perché è molto particolare Amazon ci ha spiegato che hanno lavorato in un prodotto carino e coccoloso molto kawaii infatti come vedete di solito tutti i mezzi degli ultimi tempi cercano di essere tutti un po' aggressivi, un po' così stilosi invece questo vuole essere carino carino che arriva e non vi incute timore logo Amazon sul frontale abbiamo gli occhietti a led che poi possono essere anche una specie di sorrisino richiamare un pochettino il logo di Amazon il muso invece è molto piccolo perché non abbiamo bisogno del motore termico per spostarlo perché ve l'ho detto giusto che è elettrico Rivian è un produttore di veicoli americano che ha collaborato con Amazon per creare in esclusiva questo furgoncino infatti non è un modello esistente ma è un modello che hanno sviluppato come dicevo per Amazon pare che sia stato sviluppato con in mente il cliente che in questo caso è il driver quindi abbiamo una porta scorrevole che non si apre in modo classico quindi non abbiamo la porta che si apre così ma la portiera semplicemente scorre sul lato e rivela questo spazio gigantesco ci sono diversi appigli per aggrapparsi per poter salire e la cosa che ci hanno detto che mi ha lasciato abbastanza basita è che hanno studiato addirittura l'altezza da terra l'altezza è studiata in modo che non debba fare troppo sforzo per salire qualsiasi sia la mia altezza quindi mi aggrappo qui, mi aggrappo qui e salgo con grande facilità e ovviamente posso starci in piedi in grande comodità io sono nana però pare che anche quelli molto molto alti qui dentro ci stiano tranquilli proprio perché Amazon ha deciso che chi guiderà questo mezzo non debba essere ricurvo ma possa stare dritto e svolgere il suo lavoro in tutta tranquillità come potete vedere qua è altissimo per cui anche chi è alto più o meno due metri può passarci senza prenderci dentro con la testa e poi c'è questo ciao, addio guardiamolo un pochino da dentro è personalizzato, è caratterizzato in qualsiasi dettaglio ci sono i dettagli blu, anzi azzurri che sono riconoscibili di Amazon c'è scritto Rivian qua per ricordare della partnership tra i due brand la prima cosa che vedete poi è questo vetro immenso che lascia davvero una visibilità incredibile in modo da vedere semafori, vedere tutto quello che vi circonda e cercare così di essere più sicuri possibili perché più visibilità vuol dire più sicurezza la sicurezza è sempre al primo posto, infatti ci sono maniglie, manigline là c'è un estintore, là in fondo c'è il first aid quando sono salita mi hanno detto guarda che qui è il martelletto per rompere il vetro in caso di necessità insomma qui è tutto strutturato per essere sicuro, è molto americana questa cosa e a noi sicuramente piace molto ci sono due display e il volante che è molto essenziale c'è scritto Amazon sulla parte frontale e ci sono queste due rotelline che mi ricordano una certa Tesla perché Tesla stessa ha solo due rotelle e non ha nient'altro qui sul volante in modo da organizzarvi direttamente con questo io ho settato i due specchietti destro e sinistro direttamente con le due rotelle e poi abbiamo questo display gigante e il computer di bordo che è sulla parte frontale potete vedere qua il navigatore ma soprattutto verificare il vostro furgoncino potete aprire e chiudere le porte, accendere o spegnere le luci come preferite e gestire tutto quello che ci aspetteremo di gestire su una normalissima vettura in questo caso abbiamo anche la ricarica quindi in questo momento ci dice che col 96% di batteria possiamo fare 229 km loro ci hanno detto 200 km al massimo perché qui oltre ad avere un mezzo molto grande abbiamo ovviamente quello che è il peso quindi se abbiamo un furgoncino che gira a vuoto o gira a pieno carico c'è una differenza nell'autonomia quindi ci hanno detto 200 km che per un furgoncino per le consegne Amazon è assolutamente sufficiente per quanto riguarda gli interni sono molto spaziosi questo perché non abbiamo nessuna porta scorrevole a destra o a sinistra hanno deciso di avere un portellone di là e questa saracinesca qui dietro saracinesca fatta in plastica semplicissima da aprire e da chiudere e che non occupa spazio perché va direttamente a utilizzare come nei box quelli che vedete nei film negli Stati Uniti va a utilizzare un binario che arriva fino alla parte superiore il suo aspetto è carino coccoloso anche dalla parte posteriore basta tirare qui e si chiude guardate com'è bello azzurro con la scritta Amazon sul dietro e si apre anche in maniera molto molto semplice anche in questo caso la sicurezza prima di tutto avete visto come balla in modo che non caschi giù rimane comunque su in modo che non mi sia caduto in testa queste sono degli altri appigli in modo che quando sale il nostro romino sale così si aggrappa e ne abbiamo anche un altro qui dietro mi piacciono molto anche le soluzioni delle luci led che non avevo mai visto su un furgone e fanno tutto il giro del mezzo quindi luci di posizione e gli stop che si illuminano altra cosa ci sono anche sul davanti sono questi sono delle strisce antiscivolo che in realtà più che antiscivolo a me sembrano carta vetrata di quella spessissima adesso però è arrivato il momento di guidarlo andiamo ah mi sono dimenticata di dirvi che ci sono tutte le dotazioni di sicurezza possibili e immaginabili sulla parte frontale è pieno di fotocamere sia qui che sotto la scritta Amazon questo serve perché possiamo scannerizzare tutto l'ambiente che ci circonda e ci serve per la guida autonoma eccoci a bordo di questo van di Amazon sviluppati in collaborazione con Rivian innanzitutto lo dobbiamo guidare perché se le cose si provano vanno provate bene e quindi stiamo facendo un giro siamo a Monaco di Baviera nei paraggi di Monaco di Baviera e lo stiamo mettendo alla prova stiamo facendo finta di avere un piccolo carico e lo guidiamo si guida come un qualsiasi mezzo elettrico ma è molto grande un'altra cosa abbiamo il one pedal feeling che non si può mai disattivare per cui se siete abituati ad utilizzarlo bene se no il furgoncino, il nostro furgoncino che lo chiamiamo furgoncino ma in realtà è grande con il solo acceleratore può fermarsi totalmente come abbiamo fatto adesso in questo momento in modo da poter recuperare il massimo dell'energia e sfruttare al massimo i 200 km di autonomia questo vetro gigante vi dà la possibilità di vedere tutto quello che avete intorno, semafori, cartelli stradali, persone i punti ciechi sono davvero pochissimi, è fatto in una maniera particolare per cui non abbiamo lo specchio retrovisore perché dietro è completamente chiuso per cui abbiamo una telecamera che ci mostra costantemente chi abbiamo dietro e chi ci sta seguendo, non è mai disattivabile per cui abbiamo sempre sott'occhio tutta la situazione di quello che ci circonda 2,90, 6 metri di lunghezza, comunque lo 0-100 lo fa in 8 secondi quindi niente male dai proviamo questa accelerazione no ragazzi 0-100 così veloce ma va dai 3 metri di alto, cioè tutto forche aerodinamico comunque ho chiesto il permesso voglio provarlo sentiamo qua ah insonorizzato erano i miei telefoni facciamo finta di esserci fermati a fare una consegna e qui troviamo tutti i dettagli del cliente dove dobbiamo consegnarlo ovviamente questo mock-up non vediamo in questo momento i dettagli ma qui dovrebbe esserci tutto in automatico perché il software è personalizzato ed è un mix tra quello di Rivian e quello di Amazon ti è fatto sono stata bravissima io la mia consegna finta l'ho fatta e anche il giro a bordo di questo furgone di Rivian e Amazon che è molto carino, mi piace tantissimo, chissà quando arriveranno in Italia comunque me l'hanno detto, mi hanno presa a lavorare c'ho un nuovo lavoro